giornate di cappello in esilio le sue porte sono quelle della giardinetta accompagnerà a scuola la bambina auguri della moglie poi scappa sui campi da gioco non ha ancora adottato l'auto allenatore e lo sostituisce con la squadra dei dazieri il miglior dazziere però è lui sequestra il pallone come se fosse un articolo di contrabbando ma queste sono prepotenze di buon auspicio per il suo ritorno cappello non ama troppo i rigori della federazione ma quando si tratta di questi ci sta poi vola in soccorso del portiere caso mai fosse un arbitro travestito